buongiorno ragazzi madonna che spornia di sonno queste live notturne non mi stanno aiutando non mi nascondo per dormire in altre sette ore oggi una bellissima giornata di sole penso che non abbia un caffettino a germare così almeno mi faccio una passeggiata ammassatemi eccomi cuccioli preparato vestito vorrei di pettinato ma no non abbia un caffettino ma andiamo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti